Siamo giunti all'ottava edizione del campionato di battuta al coltello a Trinità, una gara vincente tra macellai, oramai da otto anni si affrontano macellai da tutte le parti d'Italia, quest'anno toccheremo ben sei regioni d'Italia, abbiamo macellai che accorrono con molta grinta, con molta determinazione, con molto pathos da tutte le parti d'Italia, 14 macellerie selezionate dall'organizzazione del campionato perché si vuole raggruppare qua a Trinità un'elite di macellai, le gare sono molteplici, le prime dei primi anni erano gare solo di velocità, da qualche anno abbiamo introdotto anche gare di impiattamento della battuta al coltello nella versione gastronomia dove si va a premiare anche il gusto del condimento della carne e nella versione ristorante 100 grammi. Ci sono molteplici premi con molteplici collaboratori quali il Consorzio del Biograsso di Carrulco, Alvi e la coltelleria Collini che omaggeranno premi come coltelli, targhe e quest'anno c'è una nuova new entry, un orologio personalizzato fatto da Zanetti di Roma. La giuria è composta da dieci membri che turnano a seconda delle gare, sono macellai, ex macellai che valutano il trito della carne, poi abbiamo chef dei discepoli di Escofier che hanno oltre 30 anni di esperienza professionale e valuteranno il gusto e la presentazione delle battute al coltello. I macellai vengono a Trinità perché credono fermamente nella loro professione, Trinità ha voluto sposare e fare questa fiera dei macellai perché con la vicina Carrù che valorizzava il bue abbiamo capito che c'era anche bisogno di valorizzare chi valorizza il bue, la carne del bue e quindi i macellai e di fatto adesso stanno nascendo sinergie proprio tra i due comuni per portare avanti il discorso carne di razza piemontese che a livello mondiale e dal punto di vista nutrizionale è la migliore.